Che sei tu? Sono uno scrittore. Ho letto quello che hai scritto. Non è più cazzo da dire. Quell'uomo che ti guida. Il fascista che si vuole convertire all'Islam. Esiste davvero? Noi siamo in guerra per difendere la nostra civiltà. Solo Napoli poteva pertorire un figlio così tormentato tra ideologie fasciste e desiderio di pace. Gaspini! Gesù Cristo, la D.A. Rivoluzione. Conto solo che la cazienda non ti fa fottere. Come si fa a fumare questo momento? Il bello della vita è proprio questo. Ignorare che cosa accadrà domani. Ma perché ti chiamano Caragas? Via Dio Grazie a tutti.